Annunciato da stanotte il ritorno della neve sulle montagne della Toscana dopo un mese di assenza totale. È grande quindi l'attesa da parte degli impiantisti alla Betone e alla Doganaccia nell'Appennino Pistoiese si conta su questa nevicata per ampliare i chilometri di piste agibili, i collegamenti sci ai piedi tra le diverse zone e il numero di impianti attualmente aperti. Anche sulla Miata si fa affidamento sulla neve in arrivo per ampliare il comprensorio. Al momento è prevista l'apertura nel fine settimana di due campi scuola ma ci potrebbero essere belle sorprese in base alla quantità delle precipitazioni. Occhi puntati al cielo anche in Garfagnana, al casone di Profecchia si aspetta la neve per aprire anche la parte alta della stazione mentre la nevicata dovrebbe permettere di dare il via libera alla stagione a Zeri in Lunigiana e al passo delle radici la località specializzata nello sci nordico. Molti gli eventi del fine settimana tra cui spicca la diciannovesima edizione dell'iniziativa del CAI Sicuri con la neve. Otto gli appuntamenti in Toscana, in particolare ci saranno presidi di percorsi escursionistici e sci alpinistici da parte di tecnici e istruttori che daranno utili consigli e raccoglieranno dati statistici. Tra gli appuntamenti si segnalano quelli al bivacco del Lago Nero in Val Sestaione, ad Abetone, al casone di Profecchia a Castiglion di Garfagnana e al prato delle macinaie Castel del Piano in provincia di Grosseto. We Love Abetone organizza uscite con le mountain bike sulla neve. Alla doganaccia la funivia è abilitata per il trasporto delle bici. Sempre alla doganaccia domenica 19 gennaio sarà possibile provare sci e snowboard a prezzi convenzionati per il noleggio, lo ski pass e le lezioni con i maestri. Infine per quanto riguarda l'agonismo sono confermate le gare del 18 e del 19 gennaio alla Abetone valide per l'Appennino Cup. In programma uno slalom speciale e uno slalom gigante per le categorie allievi ragazzi organizzate dallo Ciclè Blanciotto di Campi Bisenzio è prevista anche la partecipazione di comitati fisi di tutto l'Appennino.